Dopo il successo del video scorso dove ho costruito uno spremi dentifricio robotizzato, questo qui, se non l'avete visto vi ho lasciato il video in descrizione dove vedrete sia il montaggio che anche il test quando spreme veramente il dentifricio. Nel video di oggi invece costruirò altri due Lego original. Il presepe Lego ovviamente non ci poteva mancare in queste festività e una versione smart di questo spremi dentifricio. Siete pronti? Procediamo! Eccoci qua, ho già preparato tutti i pezzi, partiamo dalla grotta. Grotta è finita, ora procediamo con la vegetazione. Gli do una forma curva per essere più realistica. Basi è terminata, ora non ci rimane che costruire i personaggi. Quasi dimenticavo, prima di finire il montaggio ho una super news da darvi. Ho aperto un gruppo Telegram inerente a tutte le offerte Amazon, in cui inserirò il link coupon sconto che ottengo grazie al canale per farvi risparmiare e tutte le offerte lampo di Amazon, inerenti alla tecnologia, ossia cellulari, tablet, computer e ai games. Possono essere videogames, console, Lego, droni. Se anche voi comprate su Amazon e volete risparmiare, vi ho lasciato il link del gruppo Telegram. Telegram è gratis, nel senso che avete accesso libero e quindi potete entrare. Non c'è il problema del rischio di intasamento chat perché vengono solo pubblicate le offerte. Quindi non c'è il problema di mille e mille messaggi da leggere e di controllare le offerte tra un messaggio e l'altro. Sono solo pubblicate le offerte. Quindi se siete interessati o avete qualcuno che conoscete, un vostro amico che compra spesso su Amazon, passate gli link che trovate in descrizione, tanto è accesso libero, e troverete tutte le offerte di media, ne vengono pubblicate 4-5 tutti i giorni. Così se vi capita proprio quello che cercavate e lo trovate in offerta, potete risparmiare. Ritornando al montaggio, completiamo l'opera posizionando tutti i personaggi. Ritornando al montaggio Eccolo qua, presepto è finito. Ora invece andremo a costruire il nostro Sprimi Dentifricio Smart fatto interamente con i mattoncini della Lego. Sperimi Dentifricio Lego finito. Ora lo andiamo a provare. Siete pronti? Inseriamo prima il dentifricio, andiamo a svitare il tubetto, vediamo, guardate, 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 eccolo qua, guardate, guardate come funziona. Ed è comodissimo, perché come vedete è piccolissimo, infatti me lo tengo di fianco nel lavandino. Per cui se avete dei Lego anche voi che vi sono avanzati, ne potete costruire uno e vi è comodo per risparmiare il dentifricio. E poi volete mettere, costruire varie gadget per la casa fatti di Lego. Spero che questo Lego Tutorial vi sia stato utile. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Come avete visto siamo quasi a 4.000 iscritti. Dai che se arriviamo a 10.000 finalmente YouTube mi sblocca lo store online. Per chi non lo sapesse, YouTube sblocca all'arrivo di 10.000 iscritti la possibilità di vendere gadget e oggetti online. E siccome voi lo sapete che sono anche un cosplayer, se dovesse arrivare a 10.000 iscritti finalmente riuscirei a vendere tutti i miei accessori e armi cosplay. Come queste e tantissime altre cose come Action Figaro e Lego Original. Siamo arrivati alla fine anche oggi, un saluto da Kakashi, il nostro presepe Lego e lo Smart Dentifricio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!